E' stato ribattezzato il vulcano attivo di Soleto. Questo terreno fuma, lo vedete, da oltre 20 giorni. E se fuma da oltre 20 giorni, non si tratta solo di sterpaglie. E' scesa anche la pioggia qui sopra, scrosciante per due giorni. Nulla. E il terreno fuma anche oggi. Il maestrale sferzante poi alimenta qualche principio di fiamma qua e là. Le segnalazioni preoccupate hanno fatto il giro di Facebook. Troppo strano il fenomeno per queste campagne. incontrata Carrapa, ridosso della provinciale 367 a Soleto. La vostra preoccupazione qual è? Che, come già successo di recente a Soleto, sia l'ennesima discarica abusiva, praticamente. D'altra parte si vede come ci sia un vero e proprio scavo. E la presenza di materiale ti risulta di tutti i generi. L'odore acre e pungente si appiccica addosso. E la macchia bianca di cenere ampia una decina di metri è il risultato della combustione continua. Di che cosa? Qui in quest'ora è stato effettuato il sopralluogo di vigili urbani, carabinieri e polizia provinciale. I carotaggi portati avanti dai primi mostrerebbero chiaramente che si tratta di uno strato di 5 centimetri circa di cippato di legno, ci spiega il sindaco Aglio Serra. Niente di preoccupante. Domani quelle ceneri verranno sparpagliate per evitare che continuino a fumare. Cippato di legno che significherà maglie d'ulivo, scarte di falegnameria, sfalci di potatura. Gli agenti della polizia provinciale hanno già allertato i vigili del fuoco e stanno avviando le indagini. Il terreno è dell'IPAB e non risulta affittato. Questi scarti di lavorazione però sono stati smaltiti lì illecitamente e qualcuno dovrà risponderne. Certo, risalire i responsabili attraverso la filiera non sarà semplice, ma c'è un ma. Ci dicono ci sia qui soltanto cippato di legno, però da quello che vediamo noi probabilmente c'è anche molto di più. È evidente che questo è uno scavo o una sorta di dolina che è stata riempita da materiali diversi. Cosa ci sia sotto, sotto, quella coltre, lo strato di cippato, non è dato sapere. Di lato però i rifiuti speciali, il risultato di scarti di lavorazione di lì sono inconfondibili. Spuntano pure le molle di un materasso che ha preso fuoco e quella, tubi di gomma, impossibile non notarli. Poi ci guardiamo intorno e ci accorgiamo di quanto la zona sia davvero incredibilmente degradata. Ora l'ultima parola su sollecitazione dei cittadini spetta all'ARPA. Grazie.